benvenuti e benvenute all'intervista mapo oggi andiamo ad intervistare veronica leuci ciao buonasera ciao buonasera a tutti allora mi presento velocemente vi dico anche che cos'è mapo io mi chiamo albaro mito sono consulente riferimento in italia nel settore del riordino specializzata in decluttering e organizzazione decluttering la diminuzione della quantità delle proprie cose in casa l'organizzazione invece si riferisce all'ottimizzazione degli spazi mapo è l'accademia che io ho creato ed è si non significa master academy della produttività e dell'organizzazione professionale punto di incontro tra professionisti e clienti veronica leuci è una delle consulenti mapo fatto accesso all'accademia sei certificata ed ufficialmente quindi insegna appunto i protocolli che vengono insegnati e diffonde ordine e organizzazione a tutte le persone che incontra e tutte le persone che conosce ora introduciti brevemente dici un po chi sei e che ti conosce da chi ci sta ascoltando ok sono veronica leuci come già stato detto ho 40 anni e sono una consulente mapo e mi occupo anche di qualità e servizio clienti nella filiale italiana di una multinazionale vivo col mio compagno in un appartamento in mezzo al verde con due balconi nella provincia est di milano eh senti ehm tipologia di casa è tipo monolocale bilocale un trilocale giusto per capire un po sì è un ampio bilocale ampio bilocale sì ovviamente ovviamente con box e cantina con box e cantina è importante definirlo perché comunque sono spazi che poi a cui tu hai messo anche mano poi giustamente eh sì decisamente sì ricordi molto bene e a tal proposito andiamo a fare appunto un piccolo salto in po indietro e ovviamente se tu sei qui oggi è perché c'è stato anche un passato no che da disordinata molto probabilmente quindi la prima domanda che sorge spontanea è come è stato un po' diciamo la tua esperienza da disordinata e soprattutto quali sono se puoi individuarli almeno tre ostacoli tre blocchi che ha causato nella tua vita ok sì eh sì il mio passato da disordinata è stato evidente quando ho finito il terzo trasloco e quindi quando mi sono poi trasferita nella mia casa attuale ehm però dopo un anno e mezzo perché appunto avevo ancora scatoloni non aperti e perché questo perché non volevo mh portare su in casa dal box cose che non sapevo se tenere o meno perché la maggior parte poi non non l'avevo neanche non avevo neanche deciso io di di prenderle eh quindi di di averle me la mi erano state regalate o comunque donate ehm e perciò eh quello che mi bloccava eh sicuramente è stato sono stati principalmente sono state la l'inconcludenza determinata agli effetti negativi del disordine quando poi li ho scoperti quindi l'inconcludenza l'indecisione ehm insomma anche eh la l'indecisione in concludenza il fatto che questo mi bloccasse nel ehm non eh prendere decisioni eh prendere decisioni senza mille ripensamenti eh nel non sapere chi io fossi e cosa volessi veramente questo poi ha determinato il fatto che io non lo sapessi ehm e poi anche eh nel mettere mano alla mia casa nuova cioè al personalizzarla anche quello mi ha mi ha bloccato questo dal punto di vista più materiale però poi si riversava anche sulla mia interiorità e quindi era 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 questo principalmente erano questi blocchi da quello che tu dici eh hai parlato esatto di blocchi effettivamente più interiori eh a tratti anche un po' psicologici o di abitudini più che di un effettivo poi disordine caos esterno quindi eh come mai tu mh ne parli in questa in questa in senso perché hai parlato più di questi blocchi interiori no rispetto a quello che poi poteva essere un effetto che ha dato dal caos esterno in casa eh perché eh esternamente eh apparentemente la mia casa era anche in ordine eh poi dentro gli armadi meno sicuramente però era anche apparentemente in ordine ma ero io che mi sentivo proprio bloccata erano una paralisi perché non riuscivo a tirare su le cose dal box eh avevo lì gli scatolini che pure avevo deciso di portare quindi eh e avendo fatto già una cernita di tre traslochi precedenti no eh poi con metodi sbagliati infatti di cui mi penso ancora oggi eh il famoso metodo da cui eh hai iniziato anche tu è il metodo con mari e mi ha portato a dare via tanti sacchi di eh di cose di oggetti e alcuni me li ricordo ancora adesso e me ne pento di averli dati via anche se li ho donati eh cioè penso di aver fatto del bene però allo stesso tempo non era il metodo mh adatto a me e come è stato dimostrato anche adatto a mille altre persone se no non sarei qui banalmente infatti tu eh una volta che poi tu hai quando è stato il momento in cui tu hai capito che era ora di fare i ordini cioè quando è che hai detto basta eh ne ho bisogno eh appunto quando mi sono trasferita qui ma dopo un anno e mezzo quindi dopo un anno e mezzo nel giugno 2021 allora avevo già acquistato casa felice il tuo percorso casa felice ma non l'avevo mai aperto dopo sei mesi mi chiama allora consulente Ludovica e ci mettiamo d'accordo per la chiamata eh mi ricordo proprio il momento perché io ero appena arrivata a casa ed ero in in macchina ancora e mi sono fermata lì a parlare con lei e dopo mezz'ora ho deciso eh anzi dopo un'ora perché dopo aver finito la telefonata con lei un'altra mezz'ora e ho deciso di acquistare Scelgo Me che è il precursore di disordine Bye Bye ehm perché ehm sapevo che ehm quegli scatoloni erano le ciò che ehm mi mi teneva paralizzata non mi faceva andare avanti non mi faceva fare percora scusa corsi eh che io avevo acquistato appunto come il tuo ma anche come altri eh che poi ho lasciato perdere ehm non riuscivo non riuscivo a concludere ciò che volevo concludere ehm un po' come un ancoraggio al tuo passato un ancoraggio al passato qualcosa che ti tirava indietro e non ti permetteva un po' no di andare avanti quelle catene che ti conti in sospeso sì 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 ti conti in sospeso conti in sospeso e sì e il mio passato sì assolutamente riguardo a quello che è stato il percorso prima di incontrare me tu hai appunto detto che hai fatto vari passi e hai fatto delle ricerche quindi da quello che hai detto hai incontrato delle soluzioni di tampone eh qual è stato diciamo un po' quello che ti ha mh ti ha portato poi a a fare i percorsi a iniziare con questi metodi quelli che insegno io come metodo esclusione metodo SAR e poi a portarli avanti fino ad insegnarli secondo te qual è la differenza se tu vedi delle cose che ti ha convinta cosa mi ha convinta mi ha convinta il fatto che mh avevo cercato avevo cercato prevalentemente su internet ehm un qualcosa o qualcuno che mi aiutasse a capire che io fossi e cosa volessi veramente e possibilmente anche raggiungerlo quindi ho mh continuato a cercare ma non ho trovato ehm ho trovato sì al qualcuno però mh non era quello che poi mi mi serviva non era quello che mi ha trainato fino a poi agire eh infatti eh non ho trovato nessun formatore così dedito eh alla sua missione e così eh motivante come te mh ma soprattutto che avesse e insegnasse un metodo che fosse eh avesse una una solida base teorica ma che fosse anche ehm molto molto pratico questo mi ha ehm ha fatto sì che io ehm mi ancorassi ai tuoi percorsi e che eh non li mollassi più ma ehm perché l'ho detto spesso non non ho trovato niente che fosse così veramente non l'ho trovato perché se no non sarei qua sarei da un'altra parte oppure eh insomma farei altro eh questo poi magari gettato la spugna eh no quello non lo so perché comunque eh insomma sono una tenace ehm cioè che sapeva che voleva altro voleva altro dalla vita da se stessa anche cioè un'evoluzione di Veronica non eh quella che era appunto vent'anni fa dieci anni fa perciò ho eh deciso e ho scelto eh di intraprendere scelgo me poi meno di un anno dopo è arrivata la l'opportunità di eh diventare una consulente MAPO proprio all'inizio e l'ho colta subito subito e ricordo proprio subito l'appuntamento e una domanda che infatti sorge spontanea eh anche per chi ci ascolta è ma quando tu hai iniziato la tua ricerca ok c'era questa esigenza di conoscerti di capire più di te di fare ordine quindi dentro e fuori di te quando hai avuto il pensiero eh che magari un giorno avresti potuto fare la consulente MAPO cioè hai mai pensato oppure sì sì io immaginavo immaginavo di eh di trasformare la vita degli altri dopo aver trasformato la mia e anche nel mentre perché comunque è uno scambio eh secondo me lo immaginavo tanto è vero che quando eh ti guardavo vedevo e c'era da parte insomma il fatto di dire eh caspiterina per non dire un'altra parola però poi dicevo cavolo ma è un lavoro fantastico cioè eh cambia le persone eh a partire dalla mentalità e quindi eh questo mi ha veramente eh spinto l'ho immaginato prima ho eh ho provato gli effetti negativi eh disastrosamente negativi del disordine la disorganizzazione su di me e sulle persone che erano anche vicino a me ehm quindi già in passato e anche attualmente e poi eh invece avendo eh scoperto gli effetti potentemente positivi impattanti del dei tuoi metodi dell'applicazione del metodo a discussione e SAR e dopo lì eh volevo subito trasmetterlo agli altri dirlo agli altri no sai proclami esci dici ho scoperto questo e segui conoscetelo tutti no conoscetelo tutti perché mh lì ho immaginato subito di trasmetterlo agli altri e eh per per poter far beneficiare anche loro degli effetti tangibili e anche a livello interiore eh del dell'applicazione dei tuoi metodi e e quindi appena c'è stata la possibilità l'ho colta l'hai colta eh sì perché ci sta ascoltando sicuramente si sarà posto questa domanda e si sarà chiesto però come se possa essere stato o meno un po' un passo da incosciente quello di essere si affidata avere riposta propria fiducia in una e anche i propri soldi perché hai fatto un investimento sul tuo futuro in una ragazza giovane come me sì eh ma come la giustifichi come no c'è tutt'altro sarebbe da incosciente non farlo eh l'ho detto già in precedenza e continuo a dirlo perché ehm sarebbe da incosciente non investire sui tuoi percorsi perché ehm non soltanto sì tu sei giovane però hai creato ehm un metodo un metodo comprovato in cui io credo e ehm eh basandoti sull'esperienza con migliaia di clienti eh quindi mh non sul nulla eh e e quindi insomma io ehm è stato un qualcosa che ha cambiato la mia vita ha cambiato quindi il mio modo di pensare la mia mentalità e non soltanto a livello del mio ambiente dell'ambiente in cui vivo degli ambienti in cui io vivo e opero ma anche eh su tutti gli altri ambiti della mia vita lo ha fatto ha un impatto potente anche su tutti gli altri lo sta ancora facendo sono ancora in atto questi questi cambiamenti quindi infatti no il bello è proprio questo perché una cosa che ho sempre pensato è stato strano i miei risultati eh più che altro quelli che vivranno poi le persone che si affideranno a me a provare che ciò che dico ciò che insegno funziona eh io ci ho sempre creduto perché ciò che ho attuato su di me quindi ciò che funziona attualmente io non insegno niente che io non eh persegua anche nella mia vita quindi non esiste qualcosa che io insegno che non ho mai attuato su di me eh e il fatto che anche appunto tu hai vissuto la mia stessa esperienza cioè dici nel momento in cui lo faccio esperienza funziona e continuo a portarla avanti mi dà benefici costanti eh non è più un credere mh perché è una fede in qualche modo ma è perché ho dei risultati quindi in base sulla concretezza sulla su dei risultati concreti e questo infatti è è molto interessante e importante perché poi secondo me è anche quello che poi ti porta ad essere credibile forse anche agli occhi di chi ti è vicino perché sicuramente no avrai in qualche modo forse non lo so magari hai dovuto giustificare questa tua scelta e magari hai trovato vicino a te persone che magari inizialmente non l'hanno supportata o magari hai avuto e ti chiedo se magari hai subito diciamo un po' eh da parte di qualcuno vicino a te non so magari sei stata un po' derisa o sminuita eh e se hai avuto dei bassi no in questo tuo percorso sarebbe bello che tu ci dica un po' come le superati perché sei superato questi bassi eh è l'unico motivo per cui tu sei qua allora ci sono state persone che mi hanno supportato eh altre anche vicine non sono state coinvolte nella mia scelta non sono mai stata derisa o sminuita però anche se lo fossi stata io sarei andata avanti per la mia strada perché questo era il momento io anche questo l'ho spesso detto l'ho spesso proclamato questo era il momento anzi l'anno scorso quando ho deciso e la porta avanti no matter what come si può dire quindi sì ehm sulla base di quello che appena detto tu hai detto io sei andata avanti lo stesso no quindi che cosa che ti spinge profondamente a voler perseguire questa missione ad accompagnare quindi anche me in questa missione nel voler diffondere l'ordine a più persone possibili eh in primis io ci credo fermamente perché questo è per me basilare e e poi anche aver visto gli effetti gli effetti dei nei tuoi metodi sono pragmatici eh partono dalla mentalità ma sono pragmatici quindi effetti su di me positivi molto positivi eh e impattanti anche sulle persone vicino a me che che cambia che cambiano eh velocemente e e quanto me eh almeno quelle più vicine ehm quindi il fatto di poter ehm cambiare eh le quello che è la vita delle persone ma partendo dal proprio ambiente quindi da una cosa semplice tra virgolette come sono gli oggetti e quindi ehm la propria casa e poi tutti gli altri ambiti di vita è una cosa che mh a me ha ha colpito molto e poi il fatto di potermi basare su un metodo che è ehm veramente sia teorico quindi con basi teoriche perché ci sono ma anche eh pratico eh quindi fattivo è una cosa su tu che tu puoi vedere i risultati li puoi vedere li puoi toccare con mano perché io sono come San Tommaso e e sono sempre stata una con i piedi per terra ehm però possono dire tutti eh quelli che mi conoscono davvero e quindi questo mh fa sì che io voglia trasmettere a più persone possibili a gli adulti sì ma anche i bambini perché mh bisognerebbe veramente eh insegnarlo anche a scuola eh come qualche eh tua leonesta eh cliente ha detto quindi eh è proprio un qualcosa che eh mi spinge dal profondo perché ho vissuto sulla mia pelle i gli effetti negativi e anche gli effetti positivi quindi ho fatto proprio un cambio di prospettiva secondo te mh mh sulla base di quello che hai detto fino ad ora no se tu dovessi dire ad una persona magari più che ad un adulto magari anche a un giovane una persona più giovane a un ragazzo no quali sarebbero secondo te tre uno o tre aspetti per cui secondo te è fondamentale che questa persona sappia quanto può essere importante l'ordine per la sua vita? Ah sicuramente perché ti insegna la mentalità perché eh ce ne sono tanti però ti insegna la mentalità perché ti insegna perché mh ti insegna a scegliere consapevolmente senza ripensarci trecentomila volte eh rimuginare ehm e soprattutto così evitando di far scegliere agli altri perché se non scegli tu e questo l'ho provato anche anche nella mia vita spesso e volentieri sceglieranno gli altri per te anche se ti vogliono bene per carità mh non si mette in dubbio questo ma si mette in dubbio che sia sia tu a scegliere eh perché la vita è tua e quindi debba scegliere tu e poi perché il tempo il tempo ehm l'ordine fa sì che tu ti possa gestire anche il tempo oltre ad altri importanti gli aspetti ehm il tempo della tua vita nessuno di noi sa quanto ne avrà quanto ne ha è una verità indiscussa e e quindi io ne ho sprecato tanto e anche per questo eh ho sprecato anni e per questo eh penso che sia una cosa veramente importante soprattutto per i più piccoli più giovani e insomma così come per noi adulti ma se si partisse da un'età veramente giovane eh sarebbe veramente un un potere un potere infinito sulla propria vita secondo te se tu avessi fatto ordine prima ci sarebbe stato qualcosa che tu magari probabilmente avresti fatto diversamente qualcosa sarebbe cambiato secondo te nella tua vita eh no io penso che dovessi arrivarci adesso o comunque quando è iniziato quindi in realtà il mio percorso è stato iniziato nel duemiladiciannove il percorso di ricerca e di cambiamento ehm più ehm più in più più grande ehm però sì sì certo che sarebbe cambiato molto molto eh però non 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 mi concentro su quello perché è un ehm anche un ehm pensare troppo a a ciò che non è stato quindi non è potuto essere però sì io quando ho immaginato di trasmetterlo ho detto ma trasmetterlo a eh i miei nipoti a a bimbi o anche adolescenti ma anche per carità anche a chi ha ottant'anni ma può prendere e resettare resettare ehm la propria vita ehm riordinando e quindi partendo da basi solide può rifarsene una partendo da basi solide anche forse un anno è una cosa comunque eh fantastica per me. Anche perché almeno quello che ho vissuto io sulla mia pelle è stato che una volta fatto ordine ho iniziato a sentire che vivevo la mia vita con intensità che è dieci volte maggiore rispetto a quando ero disordinata. Sì sì l'ho riscontrato anche io cioè poi è tutto molto più veloce ehm e non sono abituata alla velocità eh non lo ero almeno adesso lo sono molto di più ehm cambio velocemente il mio stesso compagno me l'ha detto dall'inizio da che ho iniziato ehm Mapo e anche prima eh poco prima perché stavo facendo cernita e quindi sì è una cosa che si nota mh non pensi più come tutti gli altri eh non non c'ho mai non ho mai pensato come tutti gli altri però sì ci sono stati periodi eh lunghi della mia vita che mi sono stata mi sono mi sono lasciata influenzare eh portare e invece no adesso se io ho un'opinione è quella eh poi rispetto anche quella degli altri faccio quello che dico è questo che anche mia mia mi ha portato a a seguirti perché hai fin dall'inizio ti ho reputato una persona che fa quello che dice eh in base anche al tuo percorso di vita ehm ma come te insomma anche altre persone che che ho incontrato cioè se facevano quello che dicevano avevano un su di me avevano un impatto diverso rispetto a che non lo faceva eh sì no certo immagino tu hai avuto la possibilità di poter fare un'esperienza lavorativa con me come pensai quando hai acquistato Mapo eh c'era la possibilità appunto che avevate incluso di fare un'esperienza lavorativa direttamente con i miei clienti e tu eh ti chiedo tu ce l'avresti mai creduto che questo eh sarebbe potuto accadere assolutamente sì io sì non perché sia una credulona perché fossi una credulona ma perché appunto eh ti ho sempre reputato una persona che che fa quello che dice ehm e quindi io non ho mai dubitato sinceramente e come è stata racconta un po' tipo la tua esperienza nel senso come hai vissuto i momenti in cui hai fatto le tue prime sessioni perché ti hai fatto sessioni incontri da da 30 40 60 80 persone sì racconta un po' come è stato e se appunto ti ha cosa ti ha trasmesso e anche un po' quello che poi ti ha dato nel continuare a fare questo educo sì 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 la la prima esperienza con te e con le tue leonesse è stato il due ottobre 2022 quindi il primo eh bootcamp sessione di riordino live ehm quindi ehm è stata un'esperienza ehm emozionante ehm ma soprattutto eh ero proprio eh energetica dopo eh non potevo stare ferma ehm dopo ho capito che questo sarà diventato il mio primo lavoro e ehm nel durante invece eh è stato è stata un'esperienza molto soddisfacente vedere che ciò che avevo imparato e per cui mi ero impegnata molto ehm si stava realizzando e vedevo riordinare le leonesse e con me e e e vediamo che eh traevano beneficio no anche nel mentre eh si trae beneficio quindi eh è stata molto soddisfacente ehm eh veramente ero eh ero pervasa da energia alla fine non riuscivo a smettere di parlare eh e quindi questo dopo il bootcamp anche durante però non così eh e basta quindi lì ho proprio eh capito che che volevo farlo e quindi questo mi ha spinto ad andare avanti eh a mettere in gioco me stessa un'altra volta nella vita perché mi sono messa in gioco diverse volte e ed andare avanti per il mio obiettivo. Tu vedi Mappo come un una possibilità di di che diventi un primo lavoro o tu lo vedi come come ok? Sì come questo di di primo lavoro perché ehm la mia visione è la è proprio quella di ehm ampliare aggiungere competenze per ehm non soltanto crescere di più io personalmente ma anche eh per avere più strumenti per poter diffondere eh worldwide questo eh i tuoi insegnamenti, i tuoi metodi e insomma tutto quello che è il mondo Mappo e ero mito anche per cui eh è questo sì sì io vedo a tempo pieno. Senti eh sulla base appunto di quella che poi adesso la tua esperienza e comunque hai avuto un modo di ricevere tanti feedback no rispetto a tutti gli incontri che hai fatto perché hai fatto un bel po' di incontri ehm riesci ad individuare tre punti di forza che magari sono ti sono stati anche riconosciuti dagli altri eh magari anche nella tua vita magari appunto anche più specificatamente nella tua esperienza di consulente Mappo che secondo te possono essere di eh aiuto nel nel tuo rapporto con il cliente durante le tue consulenze Mappo? Sì sì assolutamente l'empatia mi è stata riconosciuta durante tutta la mia vita in realtà eh poi la risolutezza questo anche dalle tue leonesse e poi anche a professionalità anche questo dalle tue leonesse e anche in altri ambiti in cui la attuo. sulla base di eh della persona che sei anche della tua nel tuo passato la tua esperienza tu a chi consiglieresti di iniziare un percorso di riordino con te? Allora non a tutti ma a chi vuole cambiare non soltanto attuare un cambiamento non soltanto esteriore ma anche interiore eh a chi quindi mh vuole eh cambiare la sua vita partendo da un metodo che funziona comprovato ehm e vuole insomma eh come posso dire mh cambiare se stesso a partire sì dal suo ambiente da da piccole cose per arrivare poi a realizzare i suoi obiettivi eh quindi essere accompagnato a realizzare i propri obiettivi identificarli che già è tanto e poi eh portarli avanti eh quindi proprio un effetto è quello che proprio quello che ehm è quello del riordino appunto effetto a parfalla quindi un effetto a macchia d'olio che si espanda eh su tutto ehm che voglia un cambiamento ma non non soltanto materiale perché non non sarebbe una cosa che eh noi noi insegniamo e non sarebbe neanche una cosa che sarebbe soddisfacente per me quindi non la proporrei neanche ehm vorrei sì qualcuno che eh volesse proprio dare un colpo di spugna eh col passato eh sì riconoscendo le sue debolezze quello sì perché eh ci sono però avendo quella luce eh quella visione appunto eh di sé eh quella voglia anche mi anche insomma piccola all'inizio nel nucleo in un nucleo proprio eh sì proprio come una luce eh un po' fioca all'inizio ma che poi si espanda che si possa espandere che ci creda quindi che quanto io ci credo eh quindi eh per me è importante e perciò non lo consiglierei a te esatto perché comunque quello che io stessa in effetti trasmetto è il fatto che fare ordine ok parte da dentro e che il disordine il caos che abbiamo attorno a noi è un riflesso di quello che poi è il caos che abbiamo dentro di noi quindi appunto quello che tu che tu dice è molto importante perché va a colpire quelle quelle persone che effettivamente cercano un cambiamento interiore quasi quella leggerezza no che ricercano da tempo quel lasciare andare un po' quel passato che non gli appartiene più nel sentirsi poi finalmente liberi sia mentalmente psicologicamente ma poi proprio nel proprio ambiente eh godersi proprio i piccoli attimi della loro vita sicuramente tra chi ci ascolta eh sarà sicuramente stato colpito si sarà ritrovato anche molto in quello che tu hai raccontato dei traslochi anche quello che appunto è i tuoi punti di vista più personali rispetto a quello che è stato poi il tuo cambiamento e tua esigenza no di fare ordine sicuramente poi chi ci sta ascoltando magari sarà ritrovato anche nella persona che tu hai appena descritto no che vorrebbe fare ordine proprio perché vuole un cambiamento interiore però però ci sarà anche qualcuno che magari si è ritrovato nella tua storia invece poi da consulente no allora ehm secondo te eh a chi consiglieresti di diventare una consulente ma poi secondo te ci sono delle degli aspetti o delle caratteristiche che non possono mancare no nel voler iniziare questo percorso sì decisamente anche qui non lo consiglierei a tutti ma solo perché dovrebbe essere una persona che ha entusiasmo che ha una visione in cui torniamo si ha una visione su se stesso e su quello che vuole fare ehm che voglia intraprendere una professione trasformazionale perché per me è questo cioè che voglia trasformare ehm attraverso l'applicazione dei metodi l'applicazione anche di eh vari percorsi che ehm riguardano i pilastri no delle emozioni del tempo e ehm anche del appunto dell'ambiente eh ma non soltanto anche gestione emozioni gestione appunto le emozioni ma anche gestione del del denaro che è una cosa comunque sì materiale ma è parte sempre della mentalità il suo rapporto con il denaro parte della mentalità quindi ehm a chi voglia attraverso questi metodi eh che ovviamente ehm devono eh devono essere appunto creduti da questa persona fermamente eh se così si può dire e eh voglia aiutare le persone a cambiare eh ad attuare un cambiamento appunto fattivo eh non soltanto appunto esteriore ma anche interiore e che voglia farlo a più persone e voglia farlo a più persone possibili eh quindi proprio che voglia eh accompagnare eh altre persone a ehm cambiare se stessi cambiare se stessi in modo però profondo non soltanto nell'aspetto più materiale quindi ehm è proprio un percorso che parte dalla mentalità mh è questo quindi io lo consiglierei a queste persone non ad altre benissimo 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 mi piace molto la tua schiettezza ma poi è è bello perché appunto dimostri di avere le idee chiare questo sicuro quindi da brava consulente Mapo allora questa consulenza e questa intervista ehm ci ha dato modo di conoscerti ed è stato un piacere eh per me ma anche per chi ti ha ti ha ascoltato avere questa possibilità e questa opportunità perché comunque tu sei qui oggi perché hai fatto un percorso che è durato tempo e che ti ha portato ad essere chi sei oggi ti porterà ancora poi a essere quello che tu vuoi essere appunto da qui ai prossimi anni visto che siamo in conclusione di intervista quello che ti chiedo è se c'è qualcosa una considerazione un ringraziamento qualcosa che vuoi dire a me o a noi a chi ci sta ascoltando avete un'altra mezz'ora allora eh sì cioè sicuramente a te eh ringrazio sempre eh già ti ho ringraziato ti ringrazio ti ringrazierò eh questo è è dovuto per quanto riguarda me eh dovuto ringrazio eh Ludovica perché mi ha portato mi ha trascinato in questo mondo anche se ci avevo fatto un passettino da sola ma eh mi ha trascinato in questo mondo quindi eh sarò sempre grata eh e poi anche al team quindi alcuni li conosco alcuni no non hanno un viso però anche ad Alessandro che è il mio consulente uno dei tuoi consulenti ma anche uno dei è il mio consulente di riferimento sempre presente e e d'aiuto molto d'aiuto eh anche con eh il fatto di eh del rapporto diretto e anche della della calma della serenità eh con cui eh insomma prende eh il suo lavoro la sua professione eh quindi vabbè anche tuo figlio anche tuo fratello ringrazio ovviamente eh per i suoi percorsi eh anche quelli eh presi quindi almeno da quando ho potuto eh e quindi insomma ringrazio in primis te ma anche le mie colleghe in alcune delle mie colleghe in particolar modo eh perché sono un supporto perché sono fonte anche tutte le altre sono anche fonte insieme alle prime due eh Melina e Tamara eh anche le altre eh sono tutte fonti 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 di ehm ispirazione eh di eh aiuto anche perché eh fornendoti idee e fornendoti consigli eh ti fanno ehm capire come puoi fare in modo diverso eh come puoi espandere la tua te eh mapo e poi ehm c'è un comune obiettivo e quindi eh è una cosa molto potente questa eh quindi sì penso di non aver tracciato nessuno a ringrazio anche le tue leonesse perché mi hanno dato la possibilità di insegnare loro eh perché c'è stato uno scambio eh perché eh mi sono sentita apprezzata e perché ho tratto molta soddisfazione nel nel insegnare loro nel consigliare loro per quello che è la mia esperienza per quello che è il mio sapere ehm insomma eh ho molto insomma debito eh nei confronti di tutte queste persone eh ma spero anche di aver contribuito anche io eh di continuare a contribuire eh questo sicuramente e spero di aver tracciato nessuno anche un'altra persona del tuo team che mi scriva che scriva sempre le mail a Nicoletta quindi io la ringrazio ehm e penso di aver ringraziato tutti ringrazio anche me stessa in questo caso per aver per essere riuscita per essere stata perseverante e per aver creduto eh in me ma anche in in te in voi ehm insomma senza mai mollare è vero non saper mollare sì non mollare mai e soprattutto quando trovi una cosa che eh si dice adesso ma è vero ti risuona dentro e trovi la cosa che eh è adatta a te è adatta a te e è rivoluzionaria soprattutto grazie mille quindi grazie a voi eh grazie quindi la nostra intervista si conclude salutiamo chi ci ha ascoltato e possiamo augurare ufficialmente quindi un buon riordino e gioia infinita sì buon riordino a tutti ciao 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 ciao